Buongiorno a tutti, si parte, eccola qua, maestosa e gustosa, ho fatto un weekend il metodo danislasti, veramente, e perchè avete con lo spicchio? Pedino e salsiccia, Vittorio, ma chi è questo stanislasti? Ed eccoci qua, ma Vittorio stai dicendo che lui ha fatto il metodo stanislasti, Vittorio, stanislasti, signori la vedete bella, rosolata, croccante, ma anche l'arista si preoccupa di stanislasti, Vittorio, ma che ti serve questo metodo stanislasti? Facciamo un esempio velocissimo, tu come dici Samia, prendi il petto di pollo, mentre io dico prendi il petto di pollo, eccoci in diagonale, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, bellissimo, Vittorio, mi passi il cheese stick per piacere? Peppe, non va bene così, devi dire, Vittorio, mi passi il cheese stick, Vittorio, ma te ne vai che ruoca? Buona giornata a tutti, e che settimana che hai cominciato?